Sarà Elisabetta Belloni a ricevere il premio Cortona Antiquaria 2022. La diplomatica italiana era diventata nota al grande pubblico quando nei caldi giorni di negoziati tra partiti finì nel totonomi per il successore di Sergio Mattarella. Sarebbe stata la prima donna al Quirinale se non fosse stato per il veto espresso da alcuni partiti. Ma non era la prima volta che il suo nome risuonava nei palazzi romani. Nel corso della sua prestigiosa carriera, gli accrediti di stima sono arrivati in maniera trasversale un po' da tutte le forze politiche. In un'intervista rivelerà però di non avere nessuna matrice politica. Ma riavvolgiamo il nastro. Belloni nasce a Roma nel settembre del 1959 e già tanti anni fa si fa notare per essere la prima ragazza ammessa al prestigioso liceo massimo di Roma, l'istituto gesuita che tra i suoi studenti vanta anche il nome di Mario Draghi. Poi arriva la laurea scienze politiche alla LUIS di Roma e nel giro di tre anni inizia la carriera diplomatica. I primi incarichi presso la direzione generale degli affari politici, poi gli incarichi nelle ambasciate italiane a Vienne e Bratislava. Rientra a Roma e inizia la scalata nei ranghi della diplomazia, prima direttrice generale per la cooperazione e lo sviluppo, poi la direzione per le risorse e le innovazioni, fino ad arrivare alla segreteria generale del Ministero degli Esteri, un gradino sotto il ministro. Arriva quindi per la numero due della Farnesina la nomina di Mario Draghi a capo del DIS, l'organo che coordina l'attività dei servizi segreti italiani. Per gli incarichi che comportano una forte responsabilità, le donne sono idonee per la loro propensione naturale alla decisione senza tentennamenti, aveva sottolineato qualche anno fa. Un volto squisitamente istituzionale ma anche familiare in Val di Chiana. Da qualche anno vive a Monte San Savino e salì già sulle platee locali quando nel 2019 ricevette il premio Semplicemente Donna a Castiglion Fiorentino. Nel privato mantiene un profilo riservato ma chi la conosce, dicono i giornali, racconta di una personalità forte e determinata, a volte anche dura. Riceverà il premio Cortona Antiquaria il prossimo 28 agosto nella cittadina etrusca. Grazie. Grazie.